Nessuno sa come siamo arrivati in questa terra, una terra piena di magia e pericolo. Lui è mio padre, il re di D'Ambroc. Loro sono i miei fratelli, o meglio, dei diavoletti. E lei è mia madre. Lei gestisce ogni singolo giorno della mia vita. Una principessa non posa le sue armi sul tavolo. Mamma! Solo che lei non ascolta. Hai finta che io sia merita? Parlami! Voglio rimanere singola e galoppare nella valle, scoccando frecce verso il tramonto! Ogni primo genito può gareggiare per ottenere la mano della fanciulla. Io gareggerò per ottenere la mia mano! Non alzardarti a scoccare un'altra freccia! Che ne è stato della cara figliola che conoscevo un tempo? Voglio l'uncantesimo che cambi il mio destino. Il fatto che potrebbe accadere di peggio! No! Se tu avessi la possibilità di cambiare il tuo destino, lo faresti. Come si che è il suo choice free! Come si è perché è il suo intended. Grazie a tutti.